Oggi sono qui per presentarvi un nuovo corso lanciato in collaborazione con Tecnica della Scuola sull'ADHD, ovvero sul disturbo dell'attenzione e dell'iberattività. Attenzione, questo è un corso avanzato, ve lo darò per scontato che chi scriverà questo corso abbia già delle nozioni di base su che cos'è l'ADHD, come funziona l'ADHD, quali sono le leggi che regolamentano l'ADHD e così via. Andremo ad approfondire strategie tecniche e modalità didattiche da utilizzare fin da subito all'interno della classe quando ho in un'aula uno o più alunni con difficoltà attentive o tecnica. Il corso è orientato e programmato per poter essere seguito dai docenti in primaria, di secondaria di primo grado e di secondaria di secondo grado. Tratteremo infatti alcuni argomenti che sono trasversali e quindi vanno bene per tutte le fasce d'età e faremo degli approfondimenti su specifiche fasce d'età e specifiche modalità da utilizzare più in una fascia che in un'altra. Grazie a tutti!